A Delghiero la situazione è per il momento sotto controllo, si può continuare a stare all'aria aperta rispettando le distanze di sicurezza. Non è esclusa però a breve un'ordinanza del sindaco Mario Conoci, più ristrettiva. Anche il Consiglio Comunale si è riunito nel giardino comunale di Sant'Anna per prendere alcune importanti decisioni che ci sono state riferite in un video messaggio dall'assessore al turismo Marco Di Gangi. Qui la situazione mi pare abbastanza sotto controllo, a differenza di Sassari è possibile ancora per i cittadini che volessero camminare o passeggiare poterlo fare, anche se arriverà a breve un'ordinanza sindacale che presumo interverrà anche su questa possibilità. Per il resto con la giunta comunale ci siamo giusto riuniti ieri, una riunione all'aperto a Sant'Anna. Abbiamo deciso di prorogare la scadenza dei tributi locali per i quali è possibile intervenire. Abbiamo stipulato un accordo con l'Istituto di Istruzione Superiore, sede dell'Istituto Alberghiero, in modo specifico del convitto, per ospitare i medici, il personale sanitario impegnato all'ospedale civile proprio per evitare che debba rientrare a casa esponendo i propri familiari al pericolo di contagio. Per quanto riguarda il turismo invece? Una riflessione su quella che è la stagione turistica 2020. Le premesse sono ovviamente disastrose, come in tutta Italia. Tranne notizie di rilievo, la TUI e TUI Nordic in particolare, che pare aver già cancellato la stagione 2020, comunque le previsioni non sono rose. Adesso si tratta di capire quali saranno i tempi di uscita da questa situazione di emergenza e di crisi, quantomeno per poter provare a ricostruire una parvenza di stagione turistica. La prima impressione, sentendo gli operatori del comparto, è che comunque sarà una stagione realmente da dimenticare il prima possibile, con l'obiettivo però di ripartire, ricostruire, speriamo quanto prima, un'offerta della città e della destinazione all'altezza tale da ridare speranza a tutti e ripartire da lì.